Un principio di incendi alloggio è divampato la scorsa notte, poco prima delle due, in un'abitazione situata in Vicolo Verga, San Giusto Canavese. Le fiamme si sono sviluppate al primo piano di una palazzina a due piani. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Ribarolo Canavese e Ivrea, l'ambulanza della Croce Rossa di Ribarolo, l'autoscala e il caro fiamma. I vigili del fuoco hanno domato e spento le fiamme prima che si propagassero. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.